Versaglio laggiù! Sto sorvegliando questo piano. Bersaglio avvistato. Mi f*** il bersaglio laggiù! Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi. Siamo dentro l'anello. Sto ricaricando gli scudi. Bersaglio è individuato. Sto combattendo il nemico. Sto lanciando una stella arca. Sto ricaricando. Uccisione confermata. Padre di tutti i dèi, concedimi la vista. Lì c'è una capsula assistenza. Spostiamoci qui. Ok. Spostiamoci qui. 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 è ricevuto adesso le affumico granata ostile laggiù granata fragmentazione granata fragmentazione granata fragmentazione muri Oh no Sto ricaricando gli studi Siete i campioni Apex Sto ricaricando gli studi